Ma non ci poteva essere serata peggiore per far il medico, l'ho visto. Ma non ci lamentiamo. Come va la fatica? A posto. Ci sparano. Ognuno tengo un albero. Sparano da nord. Sono colpito. Ci tirano dall'altro clinale opposto a nord, ragazzi. 340 gradi. I alberi occludono la vista. Se sei ferito ripiega sul rosco. No, negativo. Mi stanno sparando a me. Quindi aspetta. Non vorrei colpissimo anche lui. A posto. Check squadra! Mix a posto. Capo a posto. Quadriotto ok. dire a posto ci sono contatti gradi 340 posso spostarmi di un albero qui in basso ora scop ecco in mezzo agli alberi è vivo ce n'è un altro sempre dall'albero successivo nix lo vedi ragazzi pronti a muoversi patriot cerchiamo tra un po di scollinare un attimo date copertura al medico scolliniamo torniamo verso sud est sud est patriot dobbiamo tornare indietro io sono proprio si è ripreso era hanno beccato sono svenuto prima via 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 andiamo andiamo qua dietro le rocce che ti facciamo curare si si ma ottica corta non ci arrivo nemmeno a morire io non ho l'ottica si lo vedo anch'io ma non ci arrivo a sparare da qua quattro ti usa quella roccia grande davanti a te per fare un attimo punto medico posso sparare? negativo k arrivo unida ok date copertura al rosco mentre cura un attimo nixi a me e gli altri va bene sparta sparta anche il comando passo viene avanti comando situazione interrogativo allora stiamo procedendo procedendo verso il punto indicato abbiamo avuto un ingaggio adesso stiamo disingaggiando che hai ricevuto abbiamo sentito gli spari volevamo solo sapere la situazione chiudo in cima al crinale 3 e 20 si ho il tiro eh se vuoi si tira tira k tira qui 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 can qui che i Sì, è vero? Vedo. Morfina, morfina. Vedo storto e bianco. Ora sono a posto. Ho visto il tracciante arrivarmi in fronte. Ok, via. Squadra a movimento. In direzione nord. Andiamo, Ira. Vincino alla roccia. Ma si sta spostando. Si sposta. Ho visto passare. Ecco lo spara ancora. Ok, ragazzi. Movimento diretto. Via da qua. Patriot, raggiungiamo la casa. Via, 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 via. che droga ragazzi veloci troviamola a casa? entriamo in casa? si ragazzi mi hanno preso sto arrivando dietro 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 preso 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 hanno preso faccio fumo ci pensi tu rosco? si vado a prendere sto tirando fumo siamo una terra nixiam ci sei? si vado a prendere uno dei nostri a terra ho fatto fumo eh raga è stato un azzardo questo attraversamento si proprio a manfani ok nixiam è a terra qua aspettate che lo prendo spartan da comando bene anti comando spartan abbiamo lanciato un fumogeno bianco sulla nostra posizione se siete voi a fare fuoco cessate negativo spartan spartan ce la fate coprirmi un attimo? negativo copertura su ira scopritemi eh questo è j eh? butta butta j e nix tutti e due ce l'abbiamo ok dicevo comando negativo non siamo noi abbiamo tl e un altro operatore a terra non so non so non so non so non so ok vedendo j qua lo prendiamo eh guarda che l'avevi preso una volta ok rosco j è bendato te lo lascio ok eh ok 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 Grazie a tutti